Ciao a tutti, siamo a Monaco per ISPO 2017, vi presentiamo una grande novità dell'azienda Coltex, la famosa azienda svizzera pioniera nel campo delle pelli di foca, ha rinnovato completamente la linea e quest'anno ha introdotto una grossa novità, la pelle Combin, si tratta di una pelle più leggera del 30% rispetto alle consuete pelli, per quale motivo? È stato eliminato uno strato dove c'era poi il primer per consolidare tutta la pelle, ma abbiamo soltanto una membrana di silicone, quindi abbiamo uno strato in meno e un peso ridotto del 30%, questo ci permetterà chiaramente di avere prestazioni migliori con una pelle 100% Moher. Qui vedete in arancio la colorazione di questa membrana siliconica, che tra l'altro è fosforescente, quindi è molto carino e può anche essere utile nel caso di gare notturne che sono sempre più frequenti. Un altro vantaggio che presentiamo è questo nuovo sistema, molto più leggero, molto più pratico e molto più veloce per togliere la pelle. Inoltre un'altra novità è questo esclusivo sistema Smart per l'incollaggio della colla sul retro dello sci. Praticamente viene applicato il vecchio sullo sci e con questo riusciamo ad andare a chiudere velocemente, possiamo anche aggiustare la lunghezza e la tensione della pelle. Abbiamo vinto per questa pelle con BIN il premio ISPO Award 2017 per quanto riguarda questa categoria. Grazie. 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 Grazie.